Ciao a tutti, sono Alessio19870 Altro gameplay di Resident Evil 4, via! Dopo aver fatto poi quegli stronzi di merda Da dentro la baracca, andiamo avanti Allora Mercante Non so da vendere, niente Allora Andiamo a sinistra Perché adesso c'è il gigante Ok Andiamo di qua, di qua Aprire Ecco, beccato il pieno? A chi è rivolto? Nasconditi Vai Facciamo piazza pulita di questi stronzi di merda E poi la... Uè, Pino Pilosso! Cazzo! Uè, Pino Pilosso! Oh, eliminato, via! Allora Oh, cazzo! Mamma mia! Cazzarola! Non l'ho neanche visto Cazzarola! Andiamo avanti Allora, qua Eccolo! Quante munizioni ho? Ah! Ok Mille Allora Eccolo! Prendi questo Oh, merda! E muore Stronzo! Qua c'è qua Funzione che è Non... Che non mi servono un tubo Eccoli Da dietro Mortaco, da dietro Stronzo! Dice un'elba verde Eh, cazzo Stiamo volendo che Non ho visto che Non l'ho ancora usata Prima Prima ancora la baracca Non l'ho usata Elba verde, sì Abbatti, no? Non c'è più niente Non c'è più niente Oh, cazzo! Non è di là, di là, di là Sartare Ok Ok Oh, cazzo! Oh, cazzo! E queste? Oh, mio Dio Oh, no! Due! Doppio! Oh, due Due pericolose Oh, mio Dio Oh! Venite! Combine più con questa magnum Stronzo! E uno Dov'è la seconda? Chi ha l'accampamento Dov'è? Eccola! E due! E vai! Rubino Ma vieni Non ce ne sono più Pazzarola Allora, fa la penina di qua Esce Eccola! Allora Scendo Eccola 1700 Qua non c'è niente La porta Ok Ok Un altro Oh, da qua Unizione pistola Ma c'è qualcosa qua sotto Vediamo Ecco No Vedi? Unizione pistola Che c'è? Arrivo! Eh Eh, darmi tempo di Per Per lustrare Che cavolo Non c'è niente Che cavolo Ok Di qua Ai e sta Vieni Guarda cosa c'ho qua Eh, pirapirassò Anche tu Poi voi Oh Oestea Che distanza Che colpisce Eh, pirapirassò No No No, non mi servono Queste condizioni Oh Madonna E uno Prendi questo No, non mi servono No, non mi servono Porca miseria Oh Mamma mia Poco mi facciamo fuori Porca miseria Non ho spazio No, non mi servono Eh, non ho spazio Guarda Eh, vaffanculo Eh, vaffanculo C'è un modo Mi spazio Mi spazio di questa Eh, non c'ho altra scelta Visto che non ho spazio No Ok Puoi venire Mi mettiamo la pistola Uh, che cosa c'è qua? Ho toccato il cancello Via Mmm 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 Pianto qua Niente A quale va a andare? C'è Allora Qua Vediamo che c'è qui dietro Niente Eh, vedi? Un'unizione di pistola Un salvataggio È quello? Mmm Ok Munizione di fucile Dieci addirittura Ulla va E che? Dovevo fare un po' Di cecchinaggio Guardiamo un po' Il mercante Qua c'è Comunizione di fucile Allora Sprechiamo sta erba Qua E va quanta roba che c'ho qua Incredibile Mamma mia Mamma mia Allora Allora qua Ecco qua Ecco qua Salvataggio completato Via Rivediamo Rivediamo Sì Qua è al post Perfetto Allora Patatine E coca cola Ci voleva un po' Allora Vi dico Che finisce qui In gameplay Di Resident Evil 4 Un ciao Da Alessio 19 870 Al prossimo gameplay